Allora, questa stasera è il nostro primo incontro di una serie di incontri che avranno sempre un focus verso il long covid. La scelta di fare questa serie di incontri è partita dal fatto che ci sono sempre di più pazienti che presentano delle patologie un po' mistiche, un po' diverse, un po' non chiare, che alla fine non vanno gestite in maniera tale che il paziente si possa liberare da queste patologie. L'incontro di stasera e di mercoledì prossimo condividono i due amici, Mauro Mantovani e Giuseppe Di Fede, dove affronteremo la parte immunopatologica del long covid. Dopo di loro ci sarà una lezione condivisa tra Fabio Burigana e Luciano Lozio che parleranno della parte di mitocondri, della parte dei probiotici nel long covid. Per Pasqua lasciamo libera la settimana prima e settimana di Pasqua e poi partiamo con le rappresentazioni cliniche di long covid con la nostra cardiologa Adriana Privitera, con la neurologa la domenica e poi vediamo come andiamo avanti. Io ringrazio tutti per la vostra presenza, ringrazio tantissimo a Mauro e a Giuseppe e a questo punto ti lascerei la parola, Mauro. Benissimo, grazie Mira, grazie a tutti della partecipazione in questo webinar. Io non ho preparato tantissime slide anche perché molte cose sono ancora, come lo vedremo anche durante questa presentazione, sono ancora in divenire e lo saranno per molto tempo perché la materia è molto variegata, molto complessa e come dicevo poc'anzi ci sono delle situazioni che vanno viste molto molto da vicino anche se devo dire alcune pubblicazioni già come vedremo hanno dato e danno delle direttive. come diceva Mira, questa parte è divisa in due con me e con il professor Giuseppe Di Fede proprio per cercare di vedere la parte più, chiamiamola meccanicistica, più di appunto meccanismi che stanno dietro un po' a questa situazione del long covid e poi vedremo con Giuseppe più la parte clinica, quindi più pratica e quindi anche la parte che riguarda eventuali terapie farmacologiche o integrative. il long covid, la parola long covid, adesso io qui non l'ho messa, però mi ha incuriosito perché è stata per la prima volta utilizzata da una persona che ha avuto questo strascico, diciamo, di questa coda dopo appunto aver fatto il covid e l'ha postato mi pare su un social, adesso non mi ricordo se è Facebook. e la cosa comunque appunto ha fatto un po' il giro del mondo come avviene spesso in queste situazioni ed è stata poi coniata proprio, utilizzata proprio per, diciamo, catalogare e inquadrare una sorta di situazioni, diciamo, di sintomatologia e poi anche di immunopatologia riguardante poi tutta una serie di organi o tessuti, infatti è, diciamo, variegata, no? quindi abbiamo disturbi, per esempio, dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiovascolare, del sistema nervoso centrale periferico, disturbi anche cognitivi, di tipo anche metabolico, gastrointestinali, malessere, affaticamento, quindi questa sorta di fatigue, no? a livello dell'apparato muscoloscheletrico e anche a livello ematologico. Dico anche questo per non dimenticare il fatto che molti long covid, molte situazioni che, diciamo, caratterizzano il long covid sono estremamente parallele, direi anche convergenti, con purtroppo le reazioni avverse in alcune persone dopo vaccinazione, soprattutto dopo la seconda o terza dose. C'è una sorta proprio di parallelismo tra le due. Ora, capire con che prognosi, diciamo, può inquadrarsi il long covid, piuttosto che la stessa sintomatologia, quindi eventualmente anche lo stesso meccanismo che, diciamo, inquadra un effetto avverso della vaccinazione, questo è ancora da capire, perché vediamo molto spesso persone affette da long covid che comunque nel corso del tempo, ovviamente soggettivo, per cui alcuni in qualche settimana, alcuni in qualche mese, altri se li stanno anche portando dietro, alcune sintomatologie, comunque sia si affievoliscono. Per quanto riguarda invece, stiamo vedendo gli effetti avversi da vaccino, che purtroppo persistono e in alcune situazioni anche cronicizzano. E questo è da capire, bisogna capire come mai, e questo lo si vedrà e lo si capirà probabilmente nei mesi seguenti. La cosa interessante, oltretutto, che caratterizza il long covid, rispetto, per esempio, al mild covid, come segnato qua sotto, ci sono due righe rosse che non so come mai, e il fatto che, e questo lo vedremo in uno studio, c'è un ritorno, che caratterizza il long covid, riguarda le persone che hanno avuto per un periodo di tempo più o meno lungo l'ospedalizzazione, l'ospedalizzazione che prevedeva anche, per esempio, la terapia intensiva o la semiterapia intensiva, quindi sia o col casco o comunque sotto certi aspetti purtroppo intubati e che comunque andavano e venivano dall'ospedale, questi hanno avuto i danni più ingenti, soprattutto a livello del sistema nervoso centrale. E questo è stato visto che queste persone vengono, diciamo così, inquadrate come malati cronici. E poi vedremo anche i meccanismi, che sono molto interessanti. Vediamo se riesco ad andare avanti. Ecco, diciamo che, come vi avevo accennato, qui si può vedere meglio, in questa figura, come la sintomatologia, quindi la clinica che caratterizza il long covid, abbracci, diciamo, diverse situazioni, che possono essere appunto a livello muscolo-scheletrico. Quindi si ha una sorta di, alcune situazioni anche di paresi, proprio a livello di movimento dell'apparato muscolo-scheletrico, quindi mialgia, atralgia, piuttosto che l'apparato cardiovascolare con miocarditi, aritmie, neuropsichiatrico. Quindi quella famosa nebbia a livello cerebrale, il brain fog, ansia e depressione, mista ansia e depressione a livello polmonare, quindi dispnea. Poi si va in debito d'ossigeno, ovviamente, ematologica, come il tromboembolismo venoso, gastrointestinale, quindi tutto ciò che concerne, per esempio, dolori a livello addominale, nausea, vomito, diarrea, apparato renale, quindi urinario, endocrino, eccetera. Quindi come si può vedere, consta di un palmares, diciamo, di affezioni, ecco, di difficile, devo dire anche di difficile trattamento, perché molto spesso non c'è un'infezione alla base, quindi è un qualcosa che, come dire, che ha innescato dei microtraumi, quindi dei danni, diciamo, di origine sterile, quindi praticamente senza un qualcosa che, perché molto spesso queste situazioni si hanno anche quando c'è, per esempio, o non c'è più presenza di SARS-CoV-2, però rimangono, ecco, noi siamo abituati a livello di infezioni batteriche, per esempio, che tramite, appunto, cura di antibiotiche, o che, diciamo, si abbassa quella che è la virulenza del nostro batterio, oppure addirittura scompare proprio l'infezione e ovviamente non si hanno più, diciamo, non si ha più la sintomatologia e si torna praticamente in omeostasi, sotto certi aspetti. In questo caso, invece, non è così, quindi molto spesso non si ha più proprio la presenza, diciamo, del nostro agente infettivo, ma c'è comunque questo danno, questi danni, proprio che caratterizzano il long covid. Una delle situazioni in cui abbiamo già parlato in diverse occasioni è proprio il fatto che molto spesso questa infezione che inizia nei polmoni, almeno, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, poi comunque non è così, perché potrebbe essere anche che inizi nell'intestino. E infatti, infatti, noi sappiamo che c'è una comunicazione diretta tra intestino e polmone e tra intestino e sistema nervoso centrale. Tant'è vero, è stato spiegato in questa bellissima review pubblicata su Frontis in gastroenterology, mi pare, se non vado errato, in cui praticamente in qualche caso capita che il nostro agente infettivo prende la via praticamente gastroenterica, anziché quella polmonare, e passa la barriera gastrica, probabilmente hanno pensato anche a un discorso di consumo di gastroprotettori o antiacidi, per esempio, e arriva nell'intestino. Nell'intestino sappiamo che questo virus può o infettare i batteri o infettare comunque le cellule della mucosa intestinale, far scattare quel meccanismo di produzione di zonulina, che è una proteina che viene espressa e che in caso di infezione, per esempio, o di infiammazione, causa proprio la disgiunzione di alcune proteine che tengono unite gli interociti l'uno con l'altro e quindi praticamente sia una sorta di permeabilità intestinale, per cui sia il virus stesso sia la zonulina passano a livello della circolazione ematica, finiscono praticamente attraverso il circolo sanguigno, arrivano al cervello e si sa che la zonulina può condurre con gli stessi meccanismi anche a una rottura praticamente della barriera amatoencefalica e quindi far passare il virus o sue parti, quindi potrebbe essere anche la spike, in questo caso virale, direttamente nel sistema nervoso centrale e quindi lì praticamente provocare una neuroinvasione e quindi tutto un meccanismo di infiammazione, quindi anche lì appunto dalla brain fog, questa nebbia al cervello, che non è nient'altro che un eccesso di infiammazione dovuto a una produzione anche disregolata di citochine infiammatorie. Un altro meccanismo interessante è praticamente ciò che interessa, ciò che coinvolge il sistema del complemento. Il sistema del complemento è un qualcosa di poco, diciamo non è mai stato preso in considerazione tantissimo e abbiamo visto che invece ha dei punti fermi sia per quanto riguarda il long covid sia stiamo vedendo purtroppo per i danni da vaccino, proprio per il suo coinvolgimento con la spike, con la proteina spike. Quindi proteina spike sia da virus sia la proteina spike prodotta dal vaccino. Abbiamo visto che c'è un coinvolgimento abbastanza importante del complemento, soprattutto del C1Q, C3, C4, C5, attivati ovviamente. Normalmente nel long covid, soprattutto appunto i soggetti che hanno avuto un'infezione abbastanza importante, quindi ricordo un attimino la differenza tra contagio e infezione. contagio è quando il nostro agente infettivo entra comunque nell'organismo ospite ma non l'ha ancora infettato, l'infezione invece il passaggio successivo, ovvero il bypass del nostro agente infettivo rispetto all'immunità costitutiva, all'immunità innata e quindi il passaggio proprio, il contatto diciamo dell'agente infettivo con la superficie del cellulare, quindi del target e poi l'entrata, se ci sono le condizioni ovviamente, dell'agente infettivo all'interno proprio della cellula o delle cellule. Questo ovviamente provoca una risposta immunitaria che nella stragrande maggioranza dei casi fortunatamente va in un senso positivo risolutivo sia per quanto riguarda l'immunità cellulomediata, sia per quanto riguarda l'immunità fondamentalmente, sia per quanto riguarda l'immunità adattativa umorale, quindi la produzione di anticorpi neutralizzanti specifici, ma in alcune situazioni ovviamente convergenti con delle patologie preesistenti, con delle situazioni di infiammazione magari cronica diciamo subclinica o asintomatica, può esserci un immunoparesi, vedete una sorta di immunodeficienza per quanto riguarda non tanto lo status quo immunitario, ma il funzionamento del sistema immunitario, perché un conto è essere immuni, quindi un conto è dire, boh nel mio sistema immunitario riconosce SARS-CoV-2 e quindi hai una sorta di fotografia immunitaria, ok? Un conto è il funzionamento del sistema immunitario, quindi è ovvio che in certe condizioni avendo una sorta di paresi immunitaria, abbiamo visto un abbassamento del sistema dell'interferone, dell'interleuchina 2, l'interleuchina 2 esorto a diciamo considerarla come un marker di primo livello in questo caso, abbiamo un aumento di quelli che sono che cosa? Le citochine che fanno parte dell'infiammazione, quindi quelle citochine che dal nostro sistema innato fondamentalmente fanno partire poi diciamo così la macchina per quanto riguarda il sistema adattativo, quindi interleuchina 1 beta, interleuchina 6, la 8, il TNF alfa su tutte, quindi valutare interleuchina 2 e le 3 citochine o 4 citochine infiammatorie del sistema innato già ci può far rendere l'idea della gravità eventualmente del nostro long covid. Tutto questo ovviamente converge in che cosa? Come si può vedere in una situazione possiamo avere di diciamo di 3 d'union tra il sistema cellulare alla vostra sinistra, qua, ok? Il sistema del complemento in mezzo e guarda caso, guardate a destra in rosso, tutto quello che è il pattern della coagulazione. Quindi tutti questi sistemi convogliano ovviamente, convergono e fanno in modo che se la cosa non viene risolta in maniera diciamo normale, si potrebbe avere quello che è la trombosi del microcircolo e quindi una coagulopatia intravascolare disseminata. che insieme alla sindrome da distresse aspiratorio acuto ovviamente costituiscono quello che è il quadro della covid-19. Ovviamente questo può essere risolto diciamo con le varie cure, terapia intensiva, i farmaci eccetera eccetera, ma lascia quello che è proprio la coda di questa situazione che poi appunto è il long covid. Come possiamo vedere, possiamo notare, gli attori che diciamo sono presenti in questa particolarissima situazione sono gli stessi del, purtroppo scusate se mi ripeto, ma sono gli stessi di quello che sono gli effetti avversi dalla vaccinazione. Cioè i mastociti, i basofili o gli eosinofili, i neutrofili con la produzione proprio della loro NET, cioè la neutrophile expression traps, e mi ricordo che anche gli eosinofili producono anche questa situazione proprio di esplosione sotto certi aspetti del loro citoplasma, quindi del loro anche della parte cromatidica, istonica eccetera, e anche ovviamente di tutte le situazioni che fanno innalzare, fanno attivare poi i mastociti. Perché non dimentichiamo che queste sostanze che producono i neutrofili, quindi tutti questi granulociti polimorfonucleati, constano di sostanze altamente irritanti sia per il tessuto o per l'organo coinvolto, ma anche per l'endotelio. E tutto questo fa in modo che vi siano proprio queste situazioni, vedete a destra, che coinvolgono il processo di coagulazione. Quindi questa è una parte del long covid molto importante che si somma a quella che abbiamo visto prima, cioè a quella che coinvolge il sistema nervoso centrale. Un'altra situazione da tenere presente è il coinvolgimento dell'apparato urinario, quindi si è visto che sarebbero da includere proprio nello screening a livello clinico proprio i marcatori del danno renale, quindi le proteine urinarie, per esempio gli elettroliti. Questo è importante perché, come si può vedere, il spike sia virale che vaccinale va a impattare direttamente su quello che è il recettore ACE2. Sappiamo bene che il recettore ACE2, una volta che viene impegnato dal contatto con questa glicoproteina, non svolge più il suo compito, cioè quello di praticamente produrre, e quindi vi è una down regulation di quello che è la produzione di angiotensina 1,7. L'angiotensina 1,7 è uno dei marker che anche noi abbiamo deciso di mettere in batteria e quindi è un marcatore secondo noi molto importante per vedere proprio sia nel long covid sia nei soggetti che sono sottoposti a vaccinazione capire qual è la magnitudine eventuale del danno vascolare. Una delle situazioni per cui ci si pensa poco purtroppo è i dump. I dump sono praticamente tutti quei processi, quei meccanismi che impattano su quelli che sono i danni, danni, i danni a livello cellulare, quindi danni di tipo sterile, quindi non sono i pump per esempio dove c'è praticamente all'inizio un coinvolgimento di un agente infettivo, ma qui si parla proprio di danno cellulare senza un qualcosa diciamo a monte di tipo infettivo, quindi virale o batterico di altra natura. E i dump sono assolutamente molto pericolosi perché nei dump le cellule che sono coinvolte non vanno incontro ad apoptosi per esempio, ma vanno incontro a necrosi, necroptosi o piroptosi, quindi tutto ciò che è all'interno della cellula che invece durante l'apoptosi viene diciamo internalizzato in vescicole chiamate anche blebbing, il meccanismo è blebbing, quindi queste vescicolette per cui vengono praticamente, come dire, il contenuto cellulare non fuoriesce del tutto, ma queste vescicole, queste microvescicole, queste nanoparticelle in pratica fanno in modo che il contenuto cellulare non esponendosi non viene neanche riconosciuto e attaccato eventualmente da autoanticorpi circolanti e quindi potenzialmente andare incontro a patologie autoimmuni. Questo invece non è così per quanto riguarda il danno sterile cellulare. Questo è una qualcosa di estremamente pericoloso che il nostro organismo tenta che non si verifichi perché appunto può dar luogo a delle situazioni catastrofiche fondamentalmente. Per misurare questo danno ci sono dei marcatori chiamati allarmine che sono fondamentalmente delle citochine che la cellula esprime in una situazione in cui ancora non vi è proprio il danno, ma vi è una sorta di stress, chiamate anche stressorine e fondamentalmente sono interleuchina 1 alfa, la 33 e la 16. Noi misuriamo la 1 alfa per esempio e non le altre. La 1 alfa è diciamo quella che poi dopo eventualmente se il danno dovesse essere più profondo, più importante lascia il posto poi a quella più importante di citochina che è la 1 beta insieme alla 18 che appunto scaturiscono da quello che poi viene chiamato inflammosoma. Prima dell'inflammosoma la cellula subisce comunque uno stress e lo esprime producendo interleuchina 1 alfa. Questo è lo studio che vi dicevo che è stato pubblicato su The Journal of Clinical Investigation nel 2021 ed è interessante perché hanno visto che questi soggetti che diciamo hanno avuto l'infezione da covid ma in maniera importante producevano delle cellule particolari che sono tristemente famose in oncologia che si chiamano MDSC. MDSC sta per Mieloide Derived Suppresso Cell e sono delle cellule fondamentalmente che agiscono un po' in sinergia con le cellule linfociti T regolatori e hanno la funzione di calmare del sistema immunitario. Quindi sono delle cellule immunomodulatrici diciamo immunomodulanti. Diciamo che sono in una percentuale abbastanza piccola rispetto al totale delle cellule del sistema immunitario e diciamo sono 1 a 16, 1 a 18. Ecco nei malati covid la percentuale, la quantità quindi di queste cellule aumenta abbastanza esponenzialmente fino addirittura a invertire e diventano 18 a 1 rispetto alle altre cellule del sistema immunitario e quindi questo provoca che cosa? Provoca un'immunosoppressione. Ecco perché è stato visto dopo nelle autopsie, negli esami diciamo sui chi è deceduto da covid-19 si è visto proprio che vi è una immunosoppressione del sistema immunitario. Non si riusciva a capire come mai. Una delle situazioni proprio è questa, cioè l'aumento di queste cellule immunosoppressive di derivazione monocitario diciamo M, poi ci sono anche quelle praticamente di derivazione di altro tipo che sono quelle dei granulociti. Ecco queste cellule praticamente producono tutta una serie di citochine, di enzimi per cui praticamente fanno come dire andare in energia le cellule attive praticamente del sistema immunitario, quindi il TH1 per quanto riguarda l'immunità cellulo-mediata verso virus e batteri intracellulari, CD8, alcune cellule diciamo helper tipo CD4 eccetera. Quindi c'è tutta una serie di, c'è un palcoscenico praticamente in cui queste MDSC sono gli attori principali e abbassano tramite anche la produzione di radicali liberi, TGF-beta, arginasi, interleuchina 10 eccetera, abbassano il sistema immunitario. Ecco, questo è una nuova sindrome che si chiama sindrome diciamo catabolica da infiammazione, immunosopressione persistente, si chiama anche PIX, questo appunto è stato pubblicato nel 2018 in fronte a sindrome neurologica, non è una cosa ovviamente che si conosce con il covid però è stata proprio, diciamo è stato fatto un parallelismo e per cui appunto è uscito questo quello studio che vi accennavo prima e si è visto che proprio combacia perfettamente questa PIX con il long covid, quindi come possiamo vedere c'è una situazione in cui vi è una paralisi proprio a livello genetico del sistema immunitario, un immunosopressione, una linfopenia misto a, perché c'è chi si è preso la briga di fare anche le analisi differenziali in ospedale, ha visto che questi soggetti avevano anche e prendevano, si sono presi in ospedale anche delle infezioni nosocomiali ulteriori e questo ha provocato, praticamente provoca anche una sorta di cachesia a livello immunitario e quindi diventa fondamentalmente un malato cronico. Vedete che qui c'è una situazione per cui o guariscono la linea verde in alto o purtroppo avviene il decesso, quindi la linea blu, quella verticale, oppure vi è una nuova situazione tra la linea verde e quella blu più spostata verso la verde in cui si ha un malato cronico, quindi una situazione in cui queste persone ospedalizzate che continuamente andavano e venivano dalla terapia intensiva, dall'ospedale, dalla terapia semi-intensiva, impottiti di farmaci eccetera eccetera, praticamente avviene una situazione a metà strada ma che alla fine sono persone che purtroppo hanno dei problemi grossi, quindi di vario tipo e di varia psicologia e con trattamenti... Sento una voce? Ah ok, e quindi situazioni difficili da trattare, insomma è questo. Qua praticamente si ha un po' il sunto di quello che è stato visto fino adesso, quindi una sorta di tradunione tra danno, quindi pump, quindi meccanismi derivati dal danno di infezione, più meccanismi praticamente derivati dal danno senza l'agente infettivo, quindi questo provoca un'infiammazione di tipo sia acuto sia cronico, quindi persistente, insieme ovviamente infezioni opportunistiche nosocomiali, quindi prese nel luogo in cui si è ospedalizzati e quindi si va verso quello che è il danno multi-organo, quindi c'è anche un danno a livello mitocondriale, non ne abbiamo parlato, ma è fondamentale, quindi c'è un danno proprio a livello di fosforilazione ossidativa all'interno del mitocondrio, una produzione anche di... abbiamo visto anche un aumento dilattato di idrogenasi, quindi di LDH, che noi sappiamo che è un discorso che viene orientato soprattutto per quanto riguarda quello che è il blocco della fosforilazione ossidativa del ciclo di Krebs, quindi a un aumento dell'LDH, da un aumento dilattato, quindi un'acidificazione anche della matrice extracellulare e quindi questo provoca un'ulteriore barriera a quello che è, diciamo, l'attività del sistema immunitario. Tutto ciò ovviamente va a formare un circolo vizioso e quindi è una situazione veramente difficile. Ecco, questo è un... apro un po' le danze a quello che parlerà Giuseppe nella prossima sessione, vale a dire che cosa controllare. Qualcosa abbiamo già visto, quindi l'interleuchina 2 fondamentalmente, vedete qui nelle citochine abbiamo l'interleuchina 2, la 1 beta, quindi l'interleuchina 2 non deve essere bassa e a scapito, a discapito di quella che è l'interleuchina 2 beta, la 6, il TNF alfa, eccetera, quindi ci deve essere un certo equilibrio tra queste citochine. Consigliamo di fare anche comunque un'attenta valutazione degli autoanticorpi, liana, liena, lianca, per la tiroide, eccetera, eccetera, perché molto spesso abbiamo visto persone che non avevano mai avuto problemi di autoimmunità, a un certo punto hanno avuto anche un picco di presenza proprio di questi autoanticorpi. Fare anche i markers allergici, quindi IGE, triptasi, stamina, recettore dei mastociti, la DAO, quindi aminossidasi, e anche questo abbiamo visto un certo parallelismo con gli effetti avversi da vaccino. La fenotipizzazione linfocitaria in tutte le sottopopolazioni, quindi tutto quello che è il pattern per quanto riguarda le sottopopolazioni. I marker della coagulazione, quindi quelli classici, quindi il didimero, l'omocisteina, il fibrinogeno, gli anticorpi antitrombina, per esempio, e poi anche inserire l'angiotensina 1,7. Questo, come vi dicevo, dà un'immagine di quello che potrebbe essere il danno a livello vascolare. E poi alcuni markers epatici e renali, come abbiamo visto precedentemente, perché, come sappiamo, laddove c'è un danno a livello intestinale, sappiamo che la cosa ovviamente si ripercuote sia a livello epatico che a livello del sistema nervoso centrale, che ovviamente a livello renale. Ecco, io, Mira. Pronto? Sì, sì, sono qua. Sono incantata, ma va bene. No, ma ho ridotto un po' le diapositive perché altrimenti veniva un po' troppo folto e avremmo finito a mezzanotte. No, hai fatto bene perché così c'è tempo per le domande. Per le domande, esatto. Per raggiungere quello che qualcuno vorrebbe raggiungere o chiedere. Grazie, Mauro. Grazie, veramente. È molto interessante. Sei sempre... Sei un maestro. No, no. Molto coinvolgente. No, poi ho lasciato spazio, grazie. Ho lasciato spazio anche, ovviamente, a quello che è poi la parte più clinica, la parte più di terapia, eventualmente quella, ovviamente, terreno di Giuseppe. Ecco, la prossima volta. Vorrei fare una domanda. Scusi, no, no, no. Chi parla, scusi? Aldo Maestroni. Aldo, gentilmente. Allora, io ti chiederei la gentilezza. Se puoi alzare la mano, così io vedo, perché io ho già tre domande da fare. Perciò andrei in ordine, se posso, se non ti dispiace, va bene? Assolutamente, assolutamente. Allora, Aldo, permetti, mi leggo due domande, poi permetto alla Paola di fare la sua, poi ti chiamo, ok? Allora, Gianluca Pirro chiede, cosa si può fare per questa immunosoppressione post-Covid? E cosa si può fare per il didimero che resta alto? Per quanto riguarda l'immunosoppressione, sicuramente bisogna agire intanto sull'infiammazione, perché ricordo che l'infiammazione, quindi valutare bene le classiche VS-PCR sicuramente, poi anche la parte delle citochine infiammatorie e vedere di abbassarle o con degli antinfiammatori, senza esagerare, ovviamente, e poi Giuseppe qui sarà un po' più, diciamo, un po' più la clinica in mano, quindi dirà anche esattamente che cosa utilizzare, e poi da lì ci sono delle sostanze di terapia integrata che possono aiutare a ripristinare quello che è il normale livello delle nostre guardie, diciamo, quindi dei linfociti del sistema immunitario. Quindi agire da una parte abbassando il livello di infiammazione e dall'altra praticamente ripristinando il sistema immunitario. Ripeto, ci sono dei validi prodotti proprio di terapia complementare, mettiamola integrata, che possono sicuramente senza stravolgere, ovviamente senza far ulteriori danni, imbottendosi, diciamo, di farmaci, magari sono anche inutili, e quindi, perché vedete che il danno, tra virgolette, è, chiamiamolo, multitasking, cioè non è un qualcosa di mirato, per cui dici io vado lì e risolvo. Purtroppo non è così, e questo vale anche per i danni, per i danni, gli effetti avversi da vaccino. Ecco, ricordo a tutti che questa è la parte iniziale, quella che ha condiviso con noi Mauro. Tutte le terapie, tutte le domande che sono, tipo strategie terapeutiche, saranno affrontate successivamente. Allora, faccio la domanda che ha posto la Adriana Priviterra. Quanto pesa la genetica in questi pazienti che sviluppano questi quadri cronici persistenti con immunodepressione e quanto pesa il ritardo del trattamento domiciliare precoce? Grazie Adriana. La genetica pesa tantissimo, tantissimo. La genetica sappiamo che, io per esempio ho visto una signora, mi aveva presentato, cioè praticamente aveva fatto, non dico tutto il suo genoma, ma poco ci mancava, e aveva delle disfunzioni, delle mutazioni, degli snips, quindi, a livello anche di citochine, di recettori di citochine. Quindi già, per esempio, questo soggetto, questa persona, potrebbe essere già una persona, diciamo, fragile sotto questi aspetti, perché potrebbe avere delle disfunzioni a livello di funzionamento del sistema immunitario, pur essendo immune, attenzione. Cioè, questa persona magari ha un'immunità, ha un'immunità, diciamo, solida, verso SARS-CoV-2, ma il suo sistema immunitario non funziona come dovrebbe funzionare. Quindi potrebbe avere, magari, una risposta troppo importante all'inizio dell'infezione, e questo potrebbe scatenare una risposta infiammatoria troppo importante, e quindi, ovviamente, disregolare quella che è la risposta immunitaria. Questa è la prima. Quindi, sì, però il problema è bisognerebbe valutare, a livello genico, tutta una serie di situazioni. Primo, questo ha un costo, ovviamente, perché già, per esempio, il pattern della trombofilia, che sono 15 mutazioni, insomma, ha il suo peso, diciamo così. Poi, se vogliamo vedere anche quelli che sono, per esempio, le mutazioni sull'interleuchina 6, sull'interleuchina 8, sul TNF alfa, sull'interleuchina 1 beta, mutazioni per quanto riguarda, qualche recettore o qualche proteina di trasluzione del segnale intracellulare. Insomma, sarebbe bellissimo, ovviamente, però, ripeto, poi ci sono gli HLA, ci sono, per esempio, dei linfociti CD8, hanno visto che possono presentare dei recettori che si chiamano KIR, dove ci sono alcune, non c'è solo un KIR, ce ne sono altre, per cui, praticamente, se gli viene presentato tramite un, come si chiama, un ligando che è alterato, quindi un HLA alterato, invece che partire la risposta immunitaria, questi CD8, praticamente, diventano anergici. Però, anche lì, dovresti fare tutta la parte genetica degli HLA, cioè, è un qualcosa che purtroppo diventa veramente difficile poter fare, però sarebbe bello. Questa è la prima domanda, la seconda, però non me la ricordo già più, Mira. Di sempre di Adriana, eh? Non ti sento. Scusami, l'Adriana ha chiesto, quanto pesa la genetica in questi pazienti che sviluppano quadri cronici e quanto pesa il ritardo del trattamento domiciliare precoce? Beh, Adriana è una domanda boomerang, perché questo lo sa molto bene anche lei, lo sapete bene tutti, insomma, diciamo, il trattare, per quanto possibile, con adeguatamente e coscientemente la sintomatologia nei primordi è fondamentale, lo sappiamo, lo si sa bene. Insomma, penso che la vigile attesa e la tachiperiana siano proprio l'esatto opposto di quello che si dovrebbe fare. Quindi Adriana e molti di voi, insomma, sono stati pionieri per quanto riguarda le terapie domiciliari precoci e quindi io penso che una lezione bene la dovrebbe fare Adriana e... Oh, lei la farà, lei la farà, non ti devi provare. E' una cosa che ha aggiunto Giuseppe Di Fede che chi ha mutazioni ACE2DD è a più rischio non solo per aumentata sociabilità infettiva ma come conseguenza post-infettiva, Adriana. Sì, ecco, poi ho la Paola. Paola, vuoi fare la tua domanda? Sì te? Sì, sì, vai, vai. Forse devo aspettare di farla Giuseppe. Allora, io praticamente la mia domanda è questa. Il 13 febbraio sono risultata positiva. Lo sono stata fino al 7 di marzo. a tutt'oggi ho molti dolori sia muscolari che a livello anche neurologici. Purtroppo sono ancora molto forti però ho fatto sia tanto cortisone che tanti anti-infiammatori con pochissimi risultati. Niente, volevo sapere se potevo fare qualcos'altro anche perché ho avuto non mi ricordo adesso di preciso il giorno una specie di paresi destra sul lato destro però in ospedale mi hanno detto che praticamente era solo un'infiammazione del nervo cervicale che a tutt'oggi mi dà fastidio. Allora, io interrompo solo un secondo. Allora, per quanto riguarda le domande personali cerchiamo di farle un po' più utili per tutto il gruppo perché le domande dovrebbero essere fatte in maniera tale che noi che siamo 100 qua e altri 70-80 su YouTube tutti abbiamo una una tutti impariamo qualcosa di nuovo. Ora sì, questa è la domanda per non solo per Giuseppe ma è una domanda che va anche fatta alla neurologa. Non so Mauro se vuoi... Sì, volevo dire qualcosa perché in effetti Mira e grazie Paola per la domanda è molto pertinente e devo dire interessante proprio alla luce di quello che stiamo vedendo ultimamente con Giuseppe in ambulatorio. Ci è capitato qualche settimana fa Giuseppe è arrivata un'analisi di un laboratorio mi pare di un laboratorio tedesco di una di una paziente di una di una ragazza americana che ha fatto due dosi di vaccino. Pardon se ogni tanto salto da long covid a diciamo effetti avversi da vaccinazione però come vi dicevo scusate io non sono vaccinata non lo so no no non ha in questo senso in questo caso non ha diciamo tra virgolette importanza perché è la stessa cosa abbiamo visto che si creano degli autoanticorpi degli autoanticorpi diretti verso alcuni recettori muscarinici adrenergici ecolinergici un qualcosa di assolutamente mai visto e la stessa cosa evidentemente capita anche con il long covid cioè queste situazioni determinate ripeto da questa proteina spike che è stato visto da un lavoro mi pare della Canduc ma non solo lei che mi pare pubblicato qualche mese fa ha trovato un'omologia di sequenza con altre 290 proteine del nostro corpo queste 290 proteine voi capite bene che se ci sono degli autoanticorpi di cui uno non può saperne diciamo l'esistenza finché non fa degli esami approfonditi e mirati verso una proteina del nostro corpo e o verso la spike dall'altra parte capite che c'è un fenomeno che si chiama cross presentazione questo fenomeno di cross presentazione da di conseguenza il fenomeno di cross reattività quindi il problema è quello fondamentalmente ma ancora non si sa come dicevo all'inizio poi la neurologa o eventualmente Giuseppe nella prossima sessione non si sa quanto può permanere se questa situazione è scema poi nel tempo noi abbiamo visto in alcune situazioni di long covid queste persone che comunque nel tempo migliorano quindi però fondamentalmente sappiamo che vi è un interessamento proprio di questi recettori che danno poi l'impulso anche a livello cardiaco il muscolo cardiaco la stessa cosa ok grazie prego grazie grazie Mauro Aldo Maestroni non ti sentiamo non ti sentiamo adesso sì prego sì sì prego sì ok io sono un pneumologo allergologo e tra le tante cose su cui dovrò riflettere mi hanno colpito due parole cioè immunoparesi e energia nell'anno scorso io ho visto parecchie persone allergiche allergiche giovani asmatiche con IgE molto alte che fatte due dosi di vaccino hanno avuto un azzeramento azzeramento completo al RAST di tutte le IgE con scomparsa della sintomatologia addirittura due ho avuto tre casi di grave dermatite psoriasica ma diffusa su tutto il corpo che dopo una sola dose di vaccino sono guariti cioè c'è stata una scomparsa totale della dermatite io penso che sia coerente posso sbagliarmi con quanto diceva lei a proposito dell'immunoparesi e energia giusto? Sì a questo punto penso anch'io Aldo perché effettivamente tutto quello che è l'attività del sistema immunitario praticamente viene viene completamente annullata ovviamente questo è in relazione e proporzionale alla gravità della sintomatologia covid quindi da quello che mi stai dicendo hanno fatto tutti il vaccino non il covid ah il vaccino vaccino tutti i vaccinati eh sì va va in parallelo va in parallelo perché comunque sia vi è proprio un immunosopra un immunodeficienza immunodeficienza acquisita non HIV mediata perché noi immaginiamo l'immunodeficienza acquisita come mediata da HIV in questo caso è un immunodeficienza acquisita non HIV mediata ed è proprio purtroppo perché da una parte sicuramente queste persone hanno avuto diciamo tra virgolette giovamento però dall'altra non dimentichiamo che comunque c'è una paresi del sistema immunitario quindi questo non è molto salutare ecco sono due facce un po' della stessa medaglia dei tre casi posso rispondere io quindi la psoriasi non è più tornata dei tre casi che ho visto di grave psoriasi due si sono mantenuti asintomatici uno lentamente ritornato ah ok cioè dopo è tornata praticamente sì a distanza di sette otto mesi è tornata a ricomparire ecco gli altri due no gli altri due per adesso per adesso no per adesso no per adesso no quindi nell'altra è come se ci fosse stato un ritorno una riattivazione del sistema immunitario sì e poi sappiamo che il sistema immunitario della psoriasi comunque sia coinvolge il TH1 e il TH17 che sono i due sistemi immunitari diciamo che i principali attori direi il TH17 su tutti poi dopo ovviamente si trascina anche il TH1 e quindi c'è una disregolazione ovviamente c'è un abbassamento dei linfociti T regolatori quelli che modulano la risposta immunitaria e sì evidentemente sì sono cose molto molto particolari e molto strane è sinceramente un andamento non sicuramente normale va bene abbiamo una domanda da Valentina di Donna che chiede quanto pesa la disbiosi intestinale preesistente nell'evoluzione di Long Covid sappiamo che pesa perché il virus ha il suo atteggiamento come un fago però quanto pesa nel sviluppo di Long Covid pesa tantissimo abbiamo visto prima in quello studio in quella review che abbraccia ovviamente diversi studi fatti in quest'ultimo anno e mezzo dove praticamente la disbiosi soprattutto per quanto riguarda del piccolo intestino quindi nel tenue quindi si può vedere con due marcatori fondamentali che sono l'indicano e la zonulina noi possiamo vedere l'entità proprio della disbiosi e anche valutare l'interleuchina 22 interleuchina 22 è una citochina che agisce fondamentalmente inducendo stimolando diciamo le cellule delle mucose alla diciamo la riparazione al turnover cellulare eccetera quindi vedendo praticamente la quantità l'attività di questa interleuchina più l'indicano più la zonulina capiamo la gravità della nostra disbiosi intestinale soprattutto nel piccolo intestino e quindi ovviamente questa disbiosi se ovviamente profusa e importante può portare a una permeabilità intestinale e quindi ovviamente a tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda diciamo la diffusione del nostro virus o di sue parti in tutto l'organismo perché sappiamo che dall'intestino poi si arriva al sistema nervoso centrale al polmone ai reni al fegato eccetera Valentina chiede un'altra cosa la riattivazione di virus erpetici o altro è correlata a questa immunosuppressione concomitante? Sì anche questo abbiamo visto in ambulatorio proprio sia per quanto riguarda il dopo vaccino che per quanto riguarda l'on covid una riattivazione di tutti i virus erpetici citomegalovirus epstein bar virus su tutti e poi anche alcuni alcuni virus diciamo tipo varicella rosolia con diciamo titolo anticorpale alle stelle come se uno l'avesse fatto l'altro ieri per dire quindi senza manifestazione ovviamente della sintoma della malattia vera e propria ma questa energia del sistema immunitario fa esplodere anche i virus erpetici erpes zoster abbiamo visto anche delle manifestazioni importanti a livello di fuoco di Sant'Antonio quindi sì la risposta è sì torno sulla su quello che ci ha detto Aldo Maestroni perché c'è la domanda di Sandra la psoriasi non è più tornata Aldo dei tre casi che ho visto a distanza di otto mesi uno un signore ha avuto il ritorno progressivo anche se non ai livelli però la psoriasi sta ritornando gli altri due a distanza di più o meno siamo sei o otto nove mesi si mantengono pressoché asintomatici grazie grazie ho una domanda dalla Rosana Sarli la nostra ginecologa di Genova mi è parso di capire come ci siano più bersagli che le spike interagendo con i recettori possano provocare un'attività infiammatoria dal danno vascolare al danno neurologico all'impegno immunitario io come ginecologo ho riscontrato problemi a livello non solo di ciclo mestruale ma anche di metroragia ho pensato ai recettori ACE su ovaio e su mast cellen endometriale cosa ne pensi? sì penso che sia corretto perché il recettore ACE che poi oltretutto questo virus interessa anche altri recettori non solo l'ACE perché interessa anche altri recettori che fanno parte per esempio del sistema immunitario cioè infetta anche le cellule del sistema immunitario poi dopo all'interno di queste cellule cosa succeda esattamente ancora non si è capito bene sicuramente può infettare per esempio i macrofagi li mastociti può infettarli magari non direttamente ma tramite un'associazione col sistema del complemento con degli anticorpi come per esempio le IgE quindi noi sappiamo che i mastociti hanno dei recettori proprio specifici per le IgE e quindi sì come dicevo prima o la spike in sé perché ricordiamoci che il virus una volta che viene inattivato o che viene adesso passatemi il termine poco scientifico distrutto comunque sia può anche oppure le cellule del sistema immunitario stesso che vengono distrutte dai linfociti CD8 e natural killer o che qualche proteina spike può comunque sia diciamo andare in circolo no? quindi essere presente comunque anche se non è più presente il virus ricordiamoci che il long covid non è necessariamente diciamo presente con l'agente infettivo può esserci anche un long covid in cui l'agente infettivo non è più presente o comunque non è più presente nella sua forma virulenta ma comunque ci sono dei come dire delle parti di questo virus ricordiamoci che ci sono gli esosomi cioè quindi molto spesso ci sono delle parti di RNA virale piuttosto che di spike stessa che viaggiano tramite esosomi in altri tessuti in altri organi quindi questo è molto importante da capire perché uno dice va bene non ho più il virus ma come mai ho ancora gli strascichi del long covid allora lì bisogna passare a situazioni molto più approfondite che normalmente dovrebbero coinvolgere anche altre altre branche della della biologia che la trascrittomica la proteomica è un qualcosa come dicevo di molto molto complesso allora ci dice Giuseppe Di Fede che ha ragione la ginecologa ci è particolarmente espresso sulle cellule anche del anche dell'endometrio sì io ho una domanda di Angela che dice dopo le tre dosi i tanti si ammalano dicono di covid visto che i vaccini producono spike ci sia mala di esagerata produzione di questa proteina sì il discorso è che è proprio questo cioè quello che dicevo il il fatto quando un organismo incontra un agente infettivo diciamo completo quindi vero agente infettivo paradossalmente se non hai altre situazioni concomitanti o comunque non sei stato massacrato con altre diciamo con terapie magari farmacologiche pesanti ok eccetera l'organismo fondamentalmente riesce a liberarsi e a controllare ricordatevi questo termine tolleranza in questo periodo poi oltretutto la tolleranza è un termine un po' probabilmente desueto ma il nostro organismo è programmato fondamentalmente non tanto per combattere quanto per tollerare o almeno cercare di tollerare il fatto che ci sia un continuo bombardamento di antigene dovuto per esempio alla vaccinazione quindi una produzione una produzione pressoché importante e per lungo tempo perché non si sa per quanto tempo diciamo viene prodotta questa spike per l'organismo è una sorta di insulto è un danno ricordatevi il dump ok il danno cellulare e questo ovviamente provoca una continua attivazione del sistema immunitario senza sosta senza modulazione senza regolazione quindi è difficile per il nostro organismo raggiungere quella condizione che continuamente viene ricercata che è l'omeostasi ok quando c'è un continuo dispendio energetico una continua attivazione del sistema immunitario verso un qualcosa e che è sempre quel qualcosa il sistema immunitario a un certo punto dice no basta e quindi va in energia e non solo vi è una riprogrammazione genica del sistema immunitario soprattutto dei CD4 linfociti helper che sono i direttori d'orchestra poi di tutta l'attività immunitaria per cui praticamente il nostro sistema immunitario ha in mente sempre quell'antigene lì invece di adattarsi poi a tutto ciò che gli arriverà dopo eventualmente sposta il suo focus verso quell'antigene quindi è come se noi dicessimo continuamente guarda che il nemico è questo è questo è questo è questo è questo e lui tutto il resto che gli arriva non lo vede non lo vede più Bruno Breda io abbiamo avuto stesso pensiero c'è qualche maniera nella quale si può eliminare la spike? beh è un bel pensiero allora ci sono varie situazioni che hanno si è visto che ci sono delle sostanze che si legano bene alla spike che mi pare una di queste è la defensina 5 che è una è una proteina prodotta dalle mucose del nostro organismo quindi dalla mucosa polmonare piuttosto che quella intestinale che però purtroppo non esiste come prodotto commerciale e quindi bisogna torniamo alla domanda della collega di prima sulla disbiosi bisogna far stare in salute le nostre mucose che ripeto non finirò mai di dirlo sono la prima barriera verso gli agenti infettivi quindi la mucosa polmonare quella e quella intestinale più quella ovviamente diciamo dell'apparato binario genitale eccetera eccetera però queste due fondamentalmente perché da una diciamo dal naso respiriamo dalla bocca mangiamo quindi ovviamente queste due mucose sono le più importanti in assoluto e vi assicuro che sono il filtro primario da cui poi dopo ne scaturisce la risposta immunitaria corretta perché se vengono bypassate le queste mucose ovviamente per cui il nostro organismo non è programmato per ricevere un antigene transcutaneo o intradermico o intramuscolare ok non è programmato quindi le mucose servono per fare filtro per fare filtro perché altrimenti il sistema immunitario impazzisce e lo stiamo vedendo non ci stiamo messi d'accordo Bruno Breda io però c'è un'altra idea che nasce che non è solo la disbiosi che favorisca il long covid ma quasi assistato pro-infiammatorio che potremmo mi confermi questo lo confermo assolutamente molto spesso poi c'è un'infiammazione silente cronica subclinica di basso grado chiamiamola come vogliamo per cui non c'è una sintomatologia vera e propria però c'è come si fa a capirlo allora lo stato mi ripeto lo stato della mucosa intestinale per esempio ci può dire se noi siamo in una situazione di infiammazione la matrice extracellulare non se la calcola mai nessuno è importantissima ok valutare le citochine infiammatorie soprattutto le stressorine o le allarmine tenere a bada lo stress capisco che siamo in una situazione terribile tra il covid la guerra i nostri problemi capisco che non è facile però lo stress ricordatevi è diciamo uno dei una delle cause scatenanti del danno cellulare dallo stress derivano molto spesso riattivazioni virali e patologie autoimmuni ecco questo lo stress è il nemico numero uno del sistema immunitario grazie la professoressa scaggiante Bruna ci chiede sulla base di queste evidenze di cui ci hai parlato stasera il vaccino su base proteica tipo Novavax potrebbe quindi portare ad una energia del sistema immunitario e ad un aumento di rischio di malattie autoimmuni purtroppo sì penso io perché è vero che non è su base genica però abbiamo sempre questa maledetta spike come hanno recitato due articoli del 2009 e del 2013 pubblicati da ricercatori giapponesi l'eccesso di antigene crea una disregolazione a livello genico dei linfociti e quindi una le basi le basi per quelle che sono le patologie autoimmuni tra cui lupus quindi bisogna assolutamente capire che il il target continuo lo stesso target quindi questo eccesso ripeto dello stesso antigene non può altro che far riprogrammare a livello ripeto genico i linfociti dell'immunità adattativa e quindi c'è una maggior specificità verso l'antigene e una minor adattabilità verso eventuali varianti verso eventuali altri agenti infettivi cioè il sistema immunitario perde la bussola fondamentalmente quindi questa straordinaria come dire prerogativa che ha che hanno i linfociti l'immunità adattativa cioè quella di adattarsi proprio quasi in maniera casuale alle varianti la perde fondamentalmente salto due tre messaggi per collegarmi con quello che è appena detto per quanto riguarda stress che è una delle più grandi cause della riduzione dell'immunità perché c'è Frustaglia Antonino che chiede equivale nel modo cellulare l'ipnosi delle menti degli umani che stimolano l'attenzione monotematica covid sulle guerre microcosmo spike e basta cellula capisce? ciao Antonino mi aspettavo una domanda da te così comunque sì l'analogia l'analogia è corretta torno anche al discorso visto che mi hai lanciato diciamo l'amo torno torno al discorso della tolleranza il nostro sistema immunitario le nostre cellule che ci dovrebbero difendere ma non è una difesa come la immaginiamo noi è una difesa che è orientata verso la tolleranza non si può pensare tant'è vero che il SARS-CoV-2 adesso lo dico per tutti quelli che sono stati positivi al covid infettati eccetera SARS-CoV-2 non se ne va non è un virus che viene non è un qualcosa che viene distrutto e poi dopo qualcuno prende la la scopa e la paletta e lo mette nel bidone dell'immondizia non funziona così il i virus molto spesso a livello se non a livello di virione ma a livello genico rimangono rimangono perché questo è uno studio è stato visto col papilloma per esempio il papilloma virus il nostro sistema immunitario cerca in tutti i modi di tollerarlo non di combatterlo perché è stato visto questo sono stati studi a cavallo tra il 2000 e il 2013 tra il 2000 e il 2013 e hanno visto che ci sono dei segnali quasi come se fossero delle adesso noi vediamo queste riunioni tra i due belligeranti che cercano di trovare delle soluzioni la stessa cosa avviene tra agente infettivo e sistema immunitario voi immaginate che si riuniscono attorno a un tavolo e parlano chiacchierano cercano di trovare un accordo perché guardate che molto spesso il sistema immunitario sceglie la tolleranza perché se reagisse in maniera proporzionale contro l'infezione distruggerebbe l'organo questo deve essere ben chiaro quindi molto spesso o quasi sempre avviene la tolleranza tra i due contendenti cioè il virus si annida prende casa tra virgolette il sistema immunitario lo lascia stare in situazioni invece in cui torniamo al discorso dello stress i traumi emotivi eccetera eccetera vi è un abbassamento delle difese immunitarie e un innalzamento dell'infezione e questo lo vediamo molto bene con tante situazioni vedi per esempio più comune più eclatante lo zoster bellissima questa risposta qua grazie Antonino grazie per la domanda grazie grazie ho una domanda da YouTube che chiede qualcuno chiede potrebbero essere utili come cura per l'infiammazione cronica le Resolvine sì assolutamente sì c'è stato infatti a ottobre abbiamo avuto ottobre dell'anno scorso abbiamo avuto un seminario a Milano per cui c'è stata una collega che ha parlato proprio delle Resolvine in ambito Longco Covid è stata veramente molto interessante e da quello che ho potuto capire può essere un valido aiuto assolutamente sì poi c'è una domanda dice una paziente vaccinata con Johnson & Johnson a giugno si è malata di polmonite bilaterale Covid con ospedalizzazione per 20 giorni a settembre a febbraio fa la sierologia e si ritrova con 40.000 di IgG un valore così alto di IgG cosa ci fa pensare come nesca un meccanismo autoimmune 40.000 non è che si è sbagliata di uno a zero 40.000 ha scritto 40.000 4.0 più 3.0 dopo sì sono certa perché ho visto io stessa il valore 40.000 e lei ha fatto il sierologico perché l'avevano chiamata per la vaccinazione è andata all'avv vaccinale volevano vaccinarla lo stesso pazzi ma questi ma io dico ma vabbè non dico niente perché lei non ha non ha accettato io l'unica indicazione che le ho dato è di continuare eventualmente ogni tanto a provare per vedere se va a 50.000 o a 30 allora allora innanzitutto bisogna capire se sono anticorpi vaccinali tutti gli anticorpi da vaccino o anticorpi diciamo così da infezione sicuramente non è non è un bel valore cioè non non è possibile avere un valore del genere come anticorpi questa signora ha l'artrite romatoide anche giusto come malattia pure ecco allora bisogna che scendano però ovviamente è anche in fretta bisogna che scendano anche in fretta perché potrebbe aggravarsi l'artrite romatoide potrebbero insorgere altre patologie autoimmuni concomitanti da complessi immunocircolanti quindi bisognerebbe capire se sono anticorpi tutti anticorpi anti spike o se ci sono anche anticorpi antinucleocapside quindi vedere un attimino che ci siano anche degli anticorpi contro l'infezione perché quelli antinucleocapside ovviamente non sono per il vaccino quindi vedere fare una discriminazione in tal senso adesso anche noi ci stiamo ci stiamo adoperando per fare gli anticorpi antinucleocapside mi comunica Giuseppe di fede che il cortisolo si abbassa nella infezione quindi l'infezione e le conseguenze si prolungano Adriana chiede risulta ancora oggi nei pazienti con tre vaccinazioni che sviluppano infezione covid-19 la valutazione degli eventi avversi che vengono attribuiti alla infezione quindi alla spike del virus e non alla spike del vaccino la solita risposta purtroppo non c'è correlazione tra evento e vaccino quindi sul territorio nazionale chi dosa la spike vaccinale e chi la spike di virus perché fai queste domande allora no ma ci sta ci sta perché giustamente bisogna allora noi abbiamo fatto stiamo facendo una collaborazione con un laboratorio satellite qui vicino a noi per misurare qualitativamente quindi non quantitativamente ma qualitativamente la presenza di spike vaccinale da vaccino perché questo si può fare grazie a una spettrometria di massa che discrimina quelle due proline in più che ha la spike da vaccino per quanto riguarda invece gli anticorpi come dicevo bisognerebbe vedere in un soggetto appunto una persona che è stata vaccinata e diciamo reinfettata o infettata comunque dopo il vaccino capire la differenza tra la quantità tra anticorpi contro la spike e quelli nucleocapside quindi da lì si capisce diciamo un pochino un po' si fa una sorta di differenziazione il discorso dei danni tra virgolette se da vaccino piuttosto che da lungo covid come vi dicevo sono sovrapponibili almeno questo è quello che stiamo vedendo che sono sovrapponibili quindi è difficile cioè magari valutando gli anticorpi di uno e dell'altro e alcuni parametri alcuni marker ematologici si può capire se poi valutando la spike in circolo quindi se di spike in circolo non ne hai più è zero gli anticorpi anti spike sono zero ma gli anticorpi antinucleocapside allora hai più probabilità che siano dei degli effetti lungo covid ecco bisogna andare un po' per esclusione insomma va bene una domanda dalla Mirella a Bemi che alla fine neanch'io non ho capito tanto le resolvine le maresine possono essere importanti ma io ti chiedo anche dove le trovo questa è una bella domanda che potrei girare potrei chiedere alla collega che ha fatto questa presentazione a ottobre la dottoressa Francesca Busa e quindi me la segno e saprò dire magari la prossima volta possiamo se Giuseppe si magari lo dico anche a Giuseppe così la prossima volta Giuseppe lo può metagenics si chiamano Resoldin ah bravo grazie è Gianluca che sa grande grazie Gianluca va bene è un prodotto della metagenics Resoldin si chiama ah ok buono sapersi e tu comunque chiedi alla collega così se ci sono qualche informazione di più da dare così possiamo informare me lo segno me lo segno ecco io non ho più domande sono molto felice con tutte le domande che avete fatto ed è molto importante secondo me che abbiamo sottolineato l'importanza dello stress in tutto questo che ci sta accompagnando già da tanto tempo Mauro grazie per per la tua presentazione meravigliosa veramente bravissimo grazie a voi ragazzi grazie Antonino grazie 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 a Giuseppe grazie a Giuseppe che dava che dava input scritti in privato sì giustamente no volevo dire volevo dire giustamente perché sono cose che non si valutano mai mira valutare valutare le citochine adesso si possono fare salivari e quindi valutare le citochine che sono i mediatori dell'infiammazione ecco solo questo e poi ovviamente tutto il resto come ci siamo detti perfetto allora io vi saluto tutti ringrazio di nuovo al mio relatore a tutti voi e vi aspetto mercoledì prossimo sempre con Giuseppe e sempre con te Mauro grazie non mancherò un bacione a tutti grazie Mira grazie a tutti ciao grazie ciao 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 mira ciao ciao a voi grazie a tutti ciao grazie a te ciao c'è una registrazione per caso assolutamente perché ho perso per vacanza di connessione assolutamente sì e ci sarà tra un due giorni sulla mia canale YouTube ciao buonanotte a tutti ciao Margherita ciao 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 grazie 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 a voi grazie a voi